Alta tensione politica intorno alla nomina del nuovo direttore generale dell'Atla Avezzano Sulmona L'Aquila, che prenderà il posto del dimissionario Giancarlo Silveri. Nomina attesa per la prossima settimana. A scontrarsi due fronti politici. Da una parte in prima linea il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, uniti nel ritenere che occorre un manager, non un medico, e che soprattutto poco o nulla conta la provenienza territoriale. Serve uno brave basta e non sta scritto da nessuna parte che sia aquilano, argomentano. Non possono che concordare i rappresentanti politici di Sulmona, Avezzano e di altri comuni della provincia. Impostazione duramente contestata da quello che è stato ribattezzato invece il fronte dell'aquilanità, ovvero il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il capogruppo di Forza Italia al comune dell'Aquila Guido Liris, l'ex vicepresidente del consiglio regionale Giorgio De Matteis, che invocano una personalità interna al territorio per professionalità e provenienza. Non è possibile nominare chi viene da fuori quando altrove si è nominato un interno, tuona Pietrucci, ricordando i casi di Chieti, Termo e Pescara, per le cui ASL è la scelta dei nuovi manager ricaduta tra professionisti interni e rispettivi ospedali. Gli stranieri che il fronte dell'aquilanità guarda in Cagnesco, dati invece per favoriti nella corsa al vertice dell'ASL, sono Enrico Del Baglivo, 65enne romano in passato consulente dell'ASL di Avezzano, e Antonello Maraldo, direttore provinciale INAIL, Teramo L'Aquila. Gli aquilani, pretendenti al posto, sono invece il primario del reparto di cardiologia del San Salvatore, Sabrina Cicogna, la direttrice del dipartimento di medicina generale, Patrizia Masciovecchio, e il primario di malattie infettive, Alessandro Grimaldi. Vada come vada, quello del direttore dell'ASL dell'Aquila sarà comunque un incarico a tempo. Il decreto Lorenzini impone infatti la razionalizzazione del sistema sanitario regionale che porterà alla ASL unica ed è una decisa riduzione di poltrone incarichi di vertice all'Aquila come altrove.